300 rilievi in 4 mesi con 10 top driver per un totale di 2.5 accertamenti al giorno e quanto previsto dal primo settembre dal progetto top driver tra autostrade meridionali che gestisce l'autostrada A3 Napoli-Salerno e il Codacons Campania da sempre attivo sul fronte della sicurezza stradale con l'obiettivo di migliorare servizio, comfort e sicurezza di chi viaggia sulla A3 Napoli-Salerno. L'accordo prevede che selezionati automobilisti aderenti al Codacons i cosiddetti top driver provvedano a verificare l'infrastruttura e ad operare se necessario segnalazioni attinenti alla qualità e al comfort di viaggio. Le segnalazioni rilevate sugli oltre 51 chilometri di SAM saranno validate centralmente e inviate agli uffici competenti per la risoluzione dei problemi evidenziati. In questo modo SAM si dota di un ulteriore strumento autorevole di indipendente per migliorare la qualità del servizio offerto agli automobilisti. Sì, questa è una cosa molto importante, noi abbiamo fatto anche in altre tratte autostradali, anche dell'ANAS eccetera, cioè questo rendere protagonisti i consumatori che viaggiano, cioè quelli che proprio tutti i giorni o i pendolari eccetera che vanno avanti e indietro su queste autostrade, del controllo della qualità, perché è giusto che solo chi la vive il viaggio può dire che cosa non va in un autogrill, cosa non va in una curva, se ci stanno i rami per strada eccetera eccetera. Quindi è una iniziativa su cui devo dire ringraziare l'amministratore delegato dell'autostrada Salerno Napoli, l'ingegner Barrel, che è stata accolta con grande entusiasmo e quindi è stata immediatamente messa in pratica e noi già dai prossimi giorni cominceremo a reclutare questi anonimi top drivers, li chiamiamo così, per fornire poi quelle informazioni che naturalmente l'autostrada dovrà tenerne conto e non è che le prendere e mettere un cassetto. Il progetto top driver è un progetto molto importante, noi siamo molto attenti per la qualità del servizio alla clientela e soprattutto per la sicurezza. Avere un occhio terzo di qualificati utenti dell'infrastruttura che possano segnalare cose eventualmente sfuggite alle nostre strutture di sorveglianza e di manutenzione è comunque uno stimolo a agire sempre meglio con tempestività per innalzare i livelli di qualità del servizio. Altre importanti realtà a livello nazionale hanno già sperimentato positivamente questo modello, abbiamo ritenuto di coinvolgere il Codacons per avere appunto una simpatica spina nel fianco al fine di mantenere sempre elevata, sempre più alta l'asticella per la qualità del servizio ai nostri utenti. Il progetto è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata dal Codacons nel corso della quale si è parlato anche della nuova figura del mediatore frutto di una partnership siglata tra Ryanair e Codacons che permetterà ai passeggeri di risolvere in tempi brevi i loro reclami. Ricevamo migliaia di lamentere, di persone che o perché perdita del bagaglio, soppressione del volo, ritardi enormi eccetera, non riusciva a risolvere mai la controversia, quindi abbiamo fatto un bell'accordo con Ryanair, per cui adesso ci passano questi reclami e noi in 90 giorni li risolviamo, quindi se si deve avere un indennizzo si avrà l'indennizzo, questo significa, non più sicurezza, la parola è sbagliata perché la sicurezza degli aerei non ci riguarda e non possiamo certo controllarla noi, ma più sicurezza nella trattamento post vendita del biglietto corretto del consumatore, che è una cosa fondamentale.